Ma lo facciamo questo qua all'inizio? No, è proprio davvero difficile Perché non so quanto farlo Non ci parliamo sopra Commentate Piantala Ma sta filmando? Sta filmando? Sta filmando? Buongiorno amici, siamo due tiktoker fallite Manco incominciate Ciao a tutti E benvenuti in questo nuovo video Vi portiamo un video in cui tentiamo di fare dei tiktoker Tiktoker Oggi cercheremo di imitare i balli, le danze di Charlie D'Amelio Sottolineando che io ho sempre odiato tiktok ma la quarantena mi sta mandando per testa E sottolineando che io ho sempre detto non inizierò mai un profilo, un canale, un come cacchio si chiama tiktok E invece eccoci qui in quarantena La quarantena fa brutti scherzi Quanti giorni siamo? Dieci? Dieci Iniziamo Dov'è che sto sudando? Questo è il ballo che faremo oggi Per via del copyright non vi potremo mettere la canzone Per andare a vederlo seguiteci sui nostri tiktok E anche su Instagram E non so che altri sono E i social che vi lascio tu insomma Vai proviamo Un riscaldamento Facciamo senza musica Oddio Chi se lo ricordi? 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, ma sono 3 o 4? 1, 2, 3, 4 Questo è la... Tesoro avevi detto solo 3 Fa un attimo fermo a dire la verità e poi fa così perché io sbaglio sempre Ma calma Uno Un, due, tre Uno, due, tre Uno, due No aspetta su e poi giro E poi un, due Oia Uno, due Ma calma un attimo sono al primo cerchio Non ci stiamo ragazzi Lei tocca sul pinto Ora Io no Se sei nana non è colpa mia Dai su che non ne abbiamo fatto manco mezzo Vabbè Ma te ne vai indietro che io dovrei stare davanti tu dietro Sì ma ti calma Ma te lo stiamo provando Eh ma non c'è storia non posso fare così Vabbè Ti metti calma Dopo per Uno, due Uno, due Ah tra l'altro ho avuto che quando fa così ha i piedi chiusi E poi quando fa così li apre Tipo un saltino fa Uno, due Ma già ti senti Ma non farlo enorme Devi stare nello schermo che è strettissimo Non devi fare uno, due Non sembra espastica di mio Immaginati a fare così Ho provato il pop e l'ho provato la ginnastica artistica ma tipo per un mese forse neanche Io ginnastica artistica 4 e il pop alla prima lezione mi sono messa a piangere per l'altro Io non ricordo Cioè ritenetevi fortunati Ho sempre detto che era per la musica troppo alta In realtà perché il maestra va detto che dovevate avere le scarpe nuove pulite e nuove Io non ce le avevo pulite e nuove Che non le hai fatto? Ma stai scherzando? Maria io esco Ma non è finita che c'è il coronavirus Ah cazzo sei vero Vabbè raga vi faccio vedere io perché lei è un po' in ritardo Ecco ritardata Uno Un, due, tre Un, due, tre Uno, due Uno, due Ma no no aspetta Sarmi anche a me Uno, due Uno, due Uno Due, tre Quattro, cinque Sei Questa parte non l'ho capita Non me la ricordo male Sei Sette E poi fa così E mette questa gamba in fuori Sì ma non si vede Scusa Mette questa gamba in fuori E poi quando deve fare invece thinker Fa tipo thinker E quindi tipo Tira questa davanti Te l'ho detto io questo passaggio Tu non l'avevi capito E perché non l'hai detto? Perché muofei tutta la figa davanti alla telecamera E perché non lo potrevi dire tu? Perché tu stavi facendo una fighetta Muoviti Dai Dai via Devo darlo io Eh sì Cazzo Raga state per vedere Perché non puoi stare lì? Vabbè raga state per vedere la nostra prova Non riusciremo mai Non smettano di inviarmi i messaggi Cavolo Non te lo puoi togliere Madonna che ti continua a distrarre? Aspetta aspetta Devo scegliere il cavallo Perché li ho vinti tutti eh Non me lo ricordo Non me lo ricordo Siamo in ritardissimo Siamo in ritardissimo tesoro È sbagliatissimo Io non me lo ricordo più Si stiamo fermati per due secondi e ragioni Perdiamo più 3, 2, 1 Ho sbagliato Io credo di averlo Eravamo a stare in ritardo Comunque Non iniziativo troppo No Sono a stare in ritardo Ma non hai fatto così Che? Tu Si No Eh È in ritardo ma l'ho fatta Ci stai carino Salvo l'uno Facciamo un altro Ti prego Perché ci siamo davvero davvero quasi Sono questo Sono facendo ma quello Io non capisco mai l'inizio Cosa? L'ultimo 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 Ci eravamo quasi Aspetta ripassiamolo una volta seriamente Insieme Stai mettendo la mia ritardo Quello mi sono dimenticata Aspetta Facciamolo insieme Ok No aspetta fa Aspetti un attimo E poi fa Ricominciare Ci serve Ricominciamo Aglio Guarda che spaventa Guarda che non c'ero io Ma come ho fatto a toccarlo Dietro l'altro Frida Dove è testo quelle piante Così non c'ero Ma ti rompe Oh Faccialo là Dai che non rompa Io salto ogni volta che cade Ricominciamo 3 2 1 1 2 2 Non dire un 2 No 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 19 12 20 2018 23 23 22 23 23 23 24 24 24 26 團 chiama mia sorella social vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e sfilarli in questa danza per l'amor di mio se vi volete iscrivervi iscrivetevi dal link che vi lascio giù in descrizione, così vi è più facile commentate se siamo stati bravi o no, commentate anche il vostro nome di tiktok e vi seguiremo ricordatevi di iscrivervi al canale per avere altri contenuti del genere e se non lo raggiungiamo basta, stiamo in quarantena no, 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 per l'amor di dio ci arriveremo comunque perché stiamo in quarantena e quindi vedi così l'orologio è troppo largo e mi da fastidio ma chi se ne frega l'orologio